Grazie a tutti alla video chat della stampa con i Lost. Ciao. Ciao, ecco. E questo poi ci introduce quasi subito a una domanda, perché il microfono ce l'ha in mano Walter. Sì, in questo momento sì. Sul ruolo del cantante e poi frontman, che è poi quello che i fan, il pubblico nota di più, abbiamo un po' di domande. Perché dicono, ma i Lost ci piacciono tutti, quelli che invece dicono io amo solo Walter, per me, molti li criticano un po', più che altro qui sono gli altri che dovrebbero essere coinvolti. Come vivete questa situazione che si sente? Parti tu? Personalmente non sono geloso. No, vabbè, comunque a me piace vederla sotto un aspetto, cioè Walter riesce a comunicare maggiormente con queste persone perché parla la loro lingua, diciamo, usa la voce per parlare, per comunicare un'emozione o comunque una sensazione. magari per i musicisti è più difficile questo perché io comunico con un mio strumento come può essere la chitarra nel mio caso. Niente, comunque non siamo gelosi, quindi bene così. Non è un problema, adesso non stiamo a fare proprio tutta la carrellata, ma poi arriveremo alle domande, era subito per entrare un po' nel vivo. Sono tantissime, lo dimostra il plico di fogli, più di 200 quelle che sono arrivate. Però abbiamo tempo. Abbiamo un po' di tempo. Poi molti, siccome ci tenevano particolarmente a fare la loro domanda, l'hanno ripostata più e più volte per cercare di essere poi in testa e di arrivare. E non verrà in letto. Prima però di dare spazio alle domande dei fan, una curiosità sulla vostra giornata di oggi perché oggi è il Lost Day. Esatto. Cosa succede? La gente potrà seguirci grazie a internet in tutta la nostra giornata. Oggi per noi è un giorno importante. Abbiamo questa grande manifestazione che è la MTV Day, dove suoneremo. Quindi avranno la possibilità di vedere quello che succede prima di un concerto. Quindi diciamo è una nuova esperienza che cerchiamo di dare alla gente. E questo collegandovi sul vostro sito, ovviamente. Nostro facebook.com slash lostofficial, da lì poi si diramano tutti i nostri canali. Ecco, a proposito di MySpace, per voi ha giocato un ruolo importante nel 2006. Molto importante. Molto importante perché è stata una piattaforma che ci ha permesso di caricare la nostra musica e di farci conoscere dal pubblico, non solo dalla nostra zona di Vicenza, ma andando fuori dalla regione. E quindi questo ci ha permesso poi di fare dei concerti, di entrare in contatto con altre manifestazioni e poi con l'attuale etichetta discografica, la Carosello Records. Quindi MySpace in generale i social network, ne fate ampio uso? Sì, sì. E se no? Sì, perché comunque ti dà la possibilità di creare un ponte tra te e il pubblico. Quello che magari una volta mancava. E quindi bisogna sfruttarlo nel migliore di modi. Domanda per Walter a proposito di internet e social network. Leggi i commenti che noi fan mandiamo su MySpace. Leggo tutti i commenti che mi mandano su MySpace. Purtroppo i messaggi è più difficile perché ci sono delle persone che mandano tipo 30 messaggi uguali, quindi tolgono spazio magari ad altre persone, quindi anzi invito, non mandate 30 messaggi uguali, mandatene uno così lo leggo. MySpace e i social network sono un canale per comunicare direttamente con i fan e nelle domande ci sono proprio molte curiosità nel vostro rapporto con il vostro pubblico. Ad esempio Sebi ci scrive Quando leggete i cartelloni delle fan su di voi, che cosa provate durante un concerto? A me fa sorridere perché comunque è un sorriso bello perché ci hanno perso veramente tanto tempo a fare quei cartelloni. Infatti noi li portiamo tutti a casa e abbiamo una stanza che ormai sinceramente dovrà diventare un po' più grande perché comunque è piena zeppa di questi manifesti, di questi cartelloni. Qui ritorniamo sul discorso che mi dicevo in apertura, ci scrive Luigia Io odio le persone che dei Lost considerano solo Walter, così diamo anche la parola a qualcun altro. Nulla da togliere a Walter, ovviamente, ha il suo fascino, ma per me i Lost sono quattro. Per ogni volta che commento una foto di Walter con una considerazione che sia diversa da Walter sei bellissimo, Walter sei un cucciolo, le mie amiche mi attaccano. Ma io penso che abbiamo dimostrato più volte la nostra unione, non abbiamo mai voluto far emergere qualcuno di più o qualcuno di meno perché comunque la musica che viene fuori dai Lost è un insieme di quattro persone e quindi poi se una persona preferisce un componente piuttosto che un altro è normale, insomma sono i gusti anch'io ho delle preferenze nei miei gruppi preferiti, quello ci sta insomma. Torniamo durante i concerti, ci chiede Laelli se vi capita mai di fissarvi su una ragazza in particolare mentre cantate su una ragazza. e sono con gli occhi chiusi, quindi non capita spessissimo. Comunque sì, in certe occasioni uno fissa una persona e c'è proprio questo scambio di energie. Ecco, allora dopo averla fissata, un'altra domanda che arriva è secondo voi è possibile che un giorno potreste stringere amicizia con una fan? O magari è già capitato anche? Beh, amicizia sicuramente. Noi, come ha detto Walter, teniamo anche molto aggiornato il nostro mai spesso, rispondiamo alle persone, leggiamo tutti i commenti, quindi sì, si crea questo tipo di amicizia, di legame, però amicizia forse è strettissima come può essere come noi quattro, può essere difficile però al momento. Un'altra domanda che arriva da Jessica, titola Finzione o realtà? Il vostro modo di essere e poi un'altra sui vostri rapporti interni. Osservandovi in televisione o dal vivo ho notato che specialmente quando firmate gli autografi siete sempre calmi, educati e gentili. Mi chiedo, ma siete veramente così oppure usate come una maschera quando vi dovete rapportare con i fan? Siamo così. Ci piace fare autografi, ci piace fare le foto perché comunque sono lì per noi e c'è bisogno insomma di continuare a creare questo forte legame tra noi e i nostri fans. E quindi lo facciamo volentieri, non c'è nessuna maschera, nessuno stratagem sotto. Sempre un po' sul tema, Iri Rock vi chiede se non fareste mai, ma soprattutto vi invita a non farlo, di diventare come alcuni artisti che pur di avere soldi diventano commerciali o se non avete mai cantato in playback o mai lo fareste. Ma il discorso del commerciale e non commerciale è un discorso molto ampio. Noi ascoltiamo ogni genere musicale e nella nostra musica riportiamo quello che più ci piace. E questo magari tante volte può essere interpretato come commerciale, ma nel senso che noi vogliamo arrivare a tutta la popolazione. Quindi quando noi diciamo siamo rock, sì ma anche pop, è proprio perché vogliamo arrivare al popolo. Deve essere musica popolare, questo. Torniamo ai rapporti, prima erano con le fan, adesso tra di voi, perché hanno un dubbio Marion e Pichela, che dicono Visto che vi vediamo così peace and love, ci chiediamo se ogni tanto litigate, piccole litigate però in specifica. Beh, l'IVD non ne abbiamo, quindi non è mai sfociata in violenza. Comunque, come in ogni rapporto che si rispetti, ci sono gli alti, ci sono i bassi, ci sono dei momenti in cui magari si è più demotivato, però in realtà l'amicizia che ci lega ci aiuta a superare questi momenti. Comunque sì, litigate ci sono, non dico ogni giorno, però capita. Fanno parte, condividere gran parte del tempo assieme, insomma. Esatto. Can Davisentin ci scrive poi invece tre domande. Mia figlia oppure mia sorella? Spereremo. Se doveste scegliere il migliore tra i vostri album, quale scegliereste? Non posso scegliere, perché comunque ogni album è quello che sappiamo fare in quel momento, è il massimo che riusciamo a fare in quel momento. Sceglierne uno sarebbe quasi come rinnegare i dischi vecchi, però in realtà sono molto soddisfatto del percorso che stiamo facendo e non voglio nemmeno immaginare come sarà il percorso futuro, perché sarà sicuramente diverso da quello che immagino. Questo invece per Walter. Ti è mai capitato di sbagliare le parole durante un live? E se sì, come l'hai mascherata? Sì, ma capita, capita ai grandissimi, capita anche a me. Si fa cantare pubblico. O si inventa una… Ecco, quindi tutte le volte che si allunga il microfono non è per coinvolgere… La maggior parte delle volte no. Oppure si inventa un testo al momento. Ma ci sta, insomma, quando fai un concerto dove canti 20 canzoni, magari anche la tensione, l'euforia del concerto, ti fa magari darvi un attimo di testa, ma poi recuperi subito. Rimaniamo in ambito musicale, ce ne sono parecchie di curiosità. Da cosa prendete spunto? A cosa vi ispirate per scrivere una canzone? Ci chiede Vanessa. Ci ispiriamo da tutto. Dalla musica che ascoltiamo, dai libri, dai cinema, dalle persone che vengono ai nostri concerti, che ci danno lettere, dalle email che ci scrivono. Qualsiasi cosa può ispirarci, può portarci a scoprire nuovi lati che magari non conoscevamo. Sul vostro sito, voi fate un sondaggio tra i fan, qual è la canzone preferita da Allora sia Buon Viaggio, il vostro ultimo album, Silvia ribalta la domanda e la fa a voi. Qual è la vostra preferita? È la stessa cosa che ha detto Roberto prima per gli album, quindi è un po' difficile prendere una canzone di riferimento e farla diventare la preferita. a partire dall'ordine delle tracce, diciamo, ha un senso e quindi non si può scegliere. Non posso dire mi piace il cantante o mi piace un'altra traccia. Sono posizionate, sono state fatte per essere messe in un disco insieme, quindi non scelgo. Ti dico che dal live mi piace suonare due ore all'alba, per esempio. E qui aggiungo un pezzo di domanda. Nel scegliere però i singoli, quanto conta il fatto che quella veramente mi piace di più oppure quella può funzionare di più in questo momento per raccontare tutto l'album? Diciamo che i singoli li scegliamo noi, quindi in base a come ci sentiamo in quel momento puntiamo più su un pezzo, piuttosto che su un altro, ma è questione di periodo. Cioè può darsi che in quel momento un pezzo lo sentiamo più nostro, quindi partiamo con questo pezzo che è quello che può rappresentare al meglio tutto il disco. Il discorso della stagione estiva, anche il discorso magari una stagione estiva vai con una canzone più allegra, magari d'inverno vuoi qualcosa di più emozionale, quindi lì si varia a seconda, insomma di tantissimi fattori. Un po' di spiegazioni mi chiedono. Federica chiede, nella melodia di aria a un certo punto si sentono delle parole, che cosa dicono? O le sente sole? No, le sentono tutti, ci sono, ci sono. Sono dei campioni che vengono usati per creare, sì, come ha detto Filippo, per creare atmosfera e richiama un po', diciamo, le conversazioni che si fanno in aereo con l'aeroporto. Quindi nulla di nascosto dietro, solamente una voce che ci piaceva che creava, che dava qualcosa in più al pezzo. Ma non è che ascoltandolo al contrario si sentono i messaggi? Non si sente nessun messaggio. Altra spiegazione... Compra il disco, compra il disco. Altra richiesta di spiegazione sul significato di Duora all'alba. Francesca vorrebbe capire bene il senso del testo. Il senso lo deve trovare lei. Ognuno deve prendere un testo di una canzone e farlo suo. Io ho la mia interpretazione, che è stato un momento di sfogo dove ho voluto ricominciare, ma in realtà non posso nemmeno dirle la spiegazione, perché, come ho detto, ognuno la può interpretare come vuole. E secondo me questo è il potere della musica. Ancora una spiegazione, in questo caso, ma non sul testo. A chi è dedicata allora sia Buon Viaggio? Allora se Buon Viaggio è dedicata a noi, che siamo in viaggio, che abbiamo voglia di scoprire sempre nuove cose, quindi ce le siamo dedicata a noi stessi. Ampliamo un po' il discorso con Enzuccia, che vuole sapere come scegliete i brani da mettere in un album. Immagino che ne produrrete, ne scriverete di più, poi si deve... Sì, quelli che ci sembrano più completi in quel momento, e che riescono a creare, come diceva Filippo, un album completo, quindi tu devi mettere il disco e devi ascoltarla dalla prima all'ultima traccia, e non andare a metà disco. Devi iniziare, c'è un inizio e c'è una fine. E ampliando un po' la domanda, invece, quando si costruisce la scaletta di un live, come si fa? C'è un ingrediente? Lì è diverso, lì è diverso perché si va più sul fatto di creare degli stati d'animo diversi, quindi magari dei momenti più energici, altri più pacati, più emozionali, e per poi... Deve essere comunque un concerto sempre in crescendo. si parte e poi si raggiunge l'apice. Quanto però vi influenza la formata la scaletta il sapere quali sono i pezzi che comunque il pubblico vuole? Ma in realtà non ci abbiamo mai fatto caso su questa cosa. Abbiamo sempre messo i pezzi che ci piacciono di più, che stanno bene amalgamati tutti insieme. ovviamente i singoli, la maggior parte dei singoli, sono brani che sono perfetti in una scaletta live, quindi non ci sono grandi pensieri rivolti, diciamo, quali sono le canzoni più belle. Prima di collaborazioni, Kika, dice avete già collaborato con un artista straniero, Joel Madden, avete in programma altre collaborazioni con artisti stranieri o italiani? No, al momento no. Allora magari il suggerimento ve lo dà Marion che ha sognato che stavate collaborando con i Finlay. Che non è straniero. No, in questo caso no, però così ha sognato. Un giorno ci sarà la possibilità, insomma. Una serie di curiosità, cosa avreste fatto se con la musica fosse andata male? Qui magari facciamo una carrellata. Sicuramente avrei continuato a studiare e probabilmente sarei diventato ingegnere. Mi piaceva la matematica, la fisica, quelle cose.